Amici del canale, ben ritrovati! Questo periodo si sa, è tempo di fragole, e allora una ricetta per presentarle con la panna semplice e alla portata dei tutti. Come prima cosa ricaviamo dei quadrati 10x10 dalla nostra passasfoglia. Speriamo le nostre sfogliette incidendole a circa un centimetro e mezzo dal bordo. A questo punto solleviamo un angolo e lo mettiamo in maniera opposta all'altra. Stessa cosa facciamo con l'altro. Buccherelliamo nella parte centrale per evitare che si gonfi. Sciogliamo un cucchiaino di zucchero in acqua, creando un piccolo sciroppo. Inforniamo a 200 gradi per circa 15 minuti. Dopo aver levato le fragole, le priviamo del picciolo e le tagliamo in quattro parti. Facciamo macerare le fragole con lo zucchero e il zucco di un limone. Aggiungiamo due cucchiai di zucchero alla panna. E con l'ausilio delle fruste montiamo a nero. Schiacciamo la parte centrale e una volta che sono raffreddate mettiamo la panna a ciuffetti. Infine, decoriamo con le nostre fragole. Le spolveriamo con il cioccolato.